La mobilità alternativa ed ecologica rappresenta un punto di partenza importante per il miglioramento delle condizioni di vita sul nostro pianeta. A questa finalità accosta Blu il servizio di bike sharing dei comuni di Silvi e Montesilvano, progetto fortemente voluto dalle due amministrazioni comunali che offrirà ai cittadini e ai turisti una nuova forma di mobilità ecologica e benefica per la salute. A Silvi sono tre le stazioni attive, la prima nei pressi del palazzetto dello Sport in via Po a Silvi Sud, la seconda in centro alla stazione ferroviaria e la terza a Silvi Nord nei pressi della foce del torrente Cerrano. Questo è un servizio importantissimo per il comune di Silvi, oggi attiviamo in maniera sperimentale insieme al comune di Montesilvano il bike sharing sul nostro territorio, la possibilità di prendere la bici qui in città e poi di muoversi liberamente oltre che in città di Silvi ma anche in quella di Montesilvano. È un progetto sperimentale perché ci auguriamo di portarla anche nelle altre comuni della zona, soprattutto città Sant'Angelo e Pescara, ma anche tutta la costa terramana in quanto la mobilità sostenibile è un tema importante non solo per la città di Silvi ma per tutte le città della costa abruzzese. È un progetto frutto del lavoro tra i comuni e anche della regione, sicuramente è un progetto innovativo, la mobilità sostenibile è un tema importante e ringrazio veramente di cuore tutti quelli che hanno collaborato e hanno lavorato per la realizzazione di questa ottima iniziativa. Sono contento che Silvi abbia risposto anche all'appello lanciato dalla nostra amministrazione che è partito con questo sistema di bike sharing e appunto è un sistema di mobilità sostenibile, di collegamento tra i territori divertente, salutare e sostenibile. Quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti affinché si possa essere davvero felici oggi. Ci saranno delle biciclette in sette zone della città, Silvi avrà tre stazioni. Siamo partiti noi e ci auguriamo che anche gli altri comuni possano insomma in qualche modo aderire, che si possa allargare in raggiazione su tutto il territorio provinciale e non solo arrivare a questo punto perché Silvi fa parte della provincia di Tero ma anche insomma allargarlo a livello regionale. Grazie.